O mio Signore, che in questo mondo io non ho avuto tanto, però sono contento, sono contento. Però sono contento perché Giappato per me, per me, però in questa sera posso farti una preghiera. Fa che domani, fa che domani lei ritorna da me, da me. Fa che domani, fa che domani lei ritorna da me, da me.